Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV L'informazione locale Scassinavano i distributori automatici negli ospedali Sgominata banda di pericolosi pregiudicati Coltivava cannabis ed era stato arrestato dai carabinieri di Urbino Un operaio di 44 anni La statua dell'atleta vittorioso si riparte da zero Parla l'avvocato Tonnini Ciclista travolto a Mondolfo E' stato trasportato al torretto di Ancona in elieambulanza Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Partiamo con la cronaca Sono stati arrestati tre pericolosi pregiudicati dalla Polizia di Stato Che avevano come attività prevalente quella di scassinare i distributori di vivande Negli ospedali di Marche, Veneto ed Emilia Romagna Vediamo i particolari nel servizio Erano specializzati nel furto con scasso dei soldi contenuti nei distributori automatici di vivande all'interno degli ospedali Dopo una brillante operazione di polizia condotta dalla squadra mobile di Fano Condotta dal dirigente Stefano Seretti E dai colleghi della questura di Pesero Tre pericolosi pluri pregiudicati con reati che vanno dal furto alla rapina Fino anche per uno di loro all'omicidio colposo Sono stati assicurati alla giustizia Il terzetto, due di origini siciliane ed un pugliese Con una tecnica ben consolidata e strumenti agili Si era specializzata in questo tipo di reato Ed operava su un vasto territorio Mettendo in atto decine e decine di colpi Che gli fruttavano anche 500 euro a volta Nell'ospedale di Fano svaliggiati in pieno giorno ben quattro distributori Uno in ortopedia, due nel blocco B e uno nei laboratori analisi Ed è proprio da questo episodio che è partita l'indagine della polizia per arrivare al loro arresto Tre malviventi veramente molto aggueriti Specializzati vavano nel compiere furti all'interno di ospedali Avevano alle spalle un curriculum criminale veramente nutrito Anche omicidi Si muovevano praticamente quasi tutti i giorni Visitavano in continuazione molti ospedali delle Marche, dell'Emilia Romagna, del Veneto e anche della Lombardia Colpivano solo ed esclusivamente all'interno di ospedali Non avevano altri obiettivi da colpire e da raggiungere Quindi si dedicavano esclusivamente agli ospedali nei confronti di quali si erano completamente specializzati E ripeto, è stato un ottimo risultato questo per il nostro territorio E non solo, anche a livello extra regionale Quindi soddisfatto dell'attività dell'ufficio anticrimine di questo commissariato È stata denominata dai carabinieri di Urbino Operazione Foglia Ed ha portato all'arresto di un uomo di 44 anni che coltivava cannabis È stata denominata Operazione Foglia Ed ha visto coinvolti i carabinieri della stazione di Sasso Corvaro e Pian di Mileto Nella giornata di domenica scorsa E hanno arrestato un riminese operaio pregiudicato di 44 anni Per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L'indagine coordinata dal sottotenente Michele Ogni Santi di Urbino Partita diverse settimane fa in prossimità dell'area boschiva di Sasso Corvaro Dove era stata notata più volte un Opel Zaffira sospetta Appartenente a nessuno dei cacciatori che frequentano quella zona Controlli all'interno della boscaglia, attorno al foglio, in un'area demaniale Hanno fatto scoprire una cinquantina di piante di canapa indiana Meticolosimente coltivate dall'operaio riminese espertissimo Dopo alcune settimane di appostamenti Domenica 25 settembre alle 18 L'uomo responsabile della piantagione è stato bloccato dai militari Con il bottino in mano Circa 5 kg di cannabis appena raccolti dal suo prezioso giardino Dopo numerosi e ulteriori accertamenti presso la sua abitazione Sono state rinvenute ulteriori dose di sostanze stupefacenti Quantitativi che avrebbero saturato il mercato illegale urbinate Nella mattinata di ieri in attesa del processo L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari Abbiamo proceduto all'arresto di un cittadino italiano di Rimini Responsabile della coltivazione e spaccio Quindi della detenzione di sostanze stupefacenti Abbiamo trovato una piantagione nei pressi del fiume Foglia Consistente di circa 56 piante di cannabis Siamo arrivati a sequestrare oltre a tutte le piante Dell'ulteriore cannabis, quindi marijuana e hashish E anche alcune anfetamine Per un controvalore stimato di circa 100.000 euro Il soggetto è attualmente posto agli arresti domiciliari E verrà processato a breve, nella prossima settimana Appunto con l'accusa di coltivazione e detenzione Ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Cambiamo argomento È stata una giornata impegnativa sul fronte dei sinistri stradali Quella di oggi Alle 13.30 nei pressi di Fossombrone Lungo la vecchia Flaminia a San Martino del Piano E coinvolti un autobus di linea e due autovetture Traffico in tilt per diverse ore E due feriti trasportati non in gravi condizioni All'ospedale di Urbino dal 118 Sul posto anche la pattuglia della polizia municipale Anche la stradale di Cagli E due mezzi dei vigili del fuoco Per mettere in sicurezza Una delle due auto con impianto a gas Intorno alle 16 di oggi A Mondolfo in via Val Cesano All'incrocio con la via cesanense Una Ford Fiesta condotta da un uomo di 65 anni del luogo Nello svoltare a sinistra Ha travolto per cause ancora in via di accertamento Un ciclista che ha riportato gravi traumi I sanitari intervenuti sul posto Insieme alla polizia locale per i rilievi del caso Hanno così disposto il suo trasferimento in eleambulanza All'ospedale Torrette di Ancona E torniamo a parlare della vicenda del Lisippo A parlare ai nostri microfoni E l'avvocato Tonnini di Fano Che sta seguendo appunto la vicenda legata All'atleta, insomma Al giovane atleta del Lisippo appunto Sentiamo Il professore Alberto Berardi vorrebbe vederla a Fano A far da fulcro per tutto il patrimonio storico e culturale della città Stiamo parlando dell'atleta di Fano O atleta vittorioso O come la chiamano negli Stati Uniti Il giovane vittorioso Ma per tutti è la statua del Lisippo Dopo l'annullamento della Corte di Cassazione E dell'ordinanza di confisca della statua bronzia Per vizio procedurale Ritenendo nulle le udienze in Camera di Consiglio a Pesaro Fatte a porte chiuse Ora tutto è punto e a capo E per uscire dalle secche si riparte da zero Per tentare di riportare in Italia Una delle opere più importanti in assoluto E dal valore inestimabile Dato che la scuola dell'Isippo E quindi la statua stessa È il parametro di riferimento Per tutte le opere scultore che ne seguiranno A perorare la causa italiana Nelle aule di giustizia È l'avvocato fanese Tristano Tonnini Intervistato appunto da noi questa mattina Dicendo all'Isippo ci troviamo in questo momento In una fase dibattimentale In cui vengono sentiti testimoni Richiesti dalla difesa del Ghetti La prossima udienza è il 12 di ottobre Ci saranno altri testimoni La scorsa è stata la settimana scorsa In cui abbiamo sentito i primi testimoni E continueremo fin tanto che Si esaurirà la lista dei testimoni citati E coloro che cosa stanno tentando di dimostrare? La difesa del Ghetti sta tentando di dimostrare Con questi testimoni la buona fede Da parte del Ghetti Nell'acquisto del Trust Ghetti Dell'acquisto della statua Dell'Isippo Dell'Atleta di Fano A mio avviso è un tentativo abbastanza improbabile Dal momento che Dal punto di vista documentale Documentazione ci abbiamo Oltretutto depositata dal Ghetti In quella che era stata la prima fase Quindi all'udienza del 2009 Ci sono documenti che comprovano La malafede Tant'è vero che il Ghetti Personalmente non acquistò mai È l'Isippo La statua attribuita all'Isippo Ma venne acquistata dopo Alla dipartita del Ghetti Qual è la prospettiva in futuro Una volta che si sono ascoltati i testimoni Che cosa si prospetta per Fano E per questa vicenda? Certamente noi confidiamo che venga confermata Per un'altra volta ancora L'ordinanza di confisca E poi da lì nasce tutta una nuova fase Sperando che questa statua Arrivi a Fano In Italia in primis E comunque a Fano Nella sessione di ieri Del Consiglio Comunale di Fano Davide Del Vecchio È stato eletto Presidente Della Commissione Permanente Di Garanzia e di Controllo Con l'elezione insomma mia La Presidenza Riprenderemo un po' in mano Quel filone Quindi delle società partecipate Della fusione Che è importantissima I soldi che si stanno perdendo A causa della mancata fusione Ma anche la questione dell'aeroporto Tanti altri temi Che attraverso la Commissione Di Garanzia e Controllo Appunto potremo trattare Convocando le parti Sia istituzionali che gestionali Per cercare di capire Qual è l'andamento E cercare anche di risolvere Se è possibile Qualcuno di questi temi Di questi problemi Sarà una casa ovviamente Trasparente Quindi partecipazione pubblica Anche da parte dei cittadini E ci auguriamo Insomma che si lavori Tutti i commissari Verso l'obiettivo Che è il bene comune Ma volendo guardare Un po' oltre C'è altro Alla luce di questa nomina? Beh certo Siamo riusciti a riunire Alcune anime Che prima erano Un po' più divise Sulla mia persona E questo ovviamente Mi fa piacere Ma al di là di quello Cercando di mettere insieme Alcune aree politiche Che sono comunque Che vivono La stessa area Di centro e destra Quindi è una prima Un primo approccio Non è ancora l'Unione Ma è un primo approccio Di progetto Anche perché Chi ci governa adesso Non è che sia Facendo grandissime cose E ci dovremmo In qualche maniera Preparare E cominciare a discutere Per il 2019 Perché fra due anni e mezzo Si torna al voto Bene Cambiare il momento Parliamo di viabilità Perché c'è una comunicazione Importante Fatta dall'assessorato Ai lavori pubblici Del comune di Fano Che ci comunica Che giovedì 29 settembre 2016 Domani Appunto A causa dei lavori Di manutenzione straordinaria Delle strade La strada comunale Petruccia In località Madonna Ponte Verrà chiusa al traffico Dalle ore 7 Alle ore 18 La chiusura è determinata Dal fatto di dover eseguire Un intervento importante Già inserito Nel programma Fano Cresce Che realizzerà Entro la fine del 2016 Circa 4 milioni di euro Di asfaltature Nella nostra città Nello scusarsi Per gli inevitabili disagi All'utenza L'assessorato ai lavori pubblici Suggerisce L'utilizzo Di tragitti alternativi Da via Papiria Fino a via Turati Per raggiungere La donna industriale Di Bellocchi E da via Soncino A strada provinciale 92 Per raggiungere Appunto La frazione Di Bellocchi Di Fano Quanti di voi Hanno presente Parlando di arte Del ritratto Più famoso Al mondo Quello della Gioconda Dietro appunto All'immagine C'è un paesaggio Ebbene Questi paesaggi Insieme a quelli bellissimi Dipinti da Piero della Francesca Pochi sanno Che si possono vedere Dal vivo Sentiamo come E perché Allora Un'occasione Ghiotta Quella che si prospetta Fra pochi giorni Quella di poter mirare Dal vivo Scenari immortalati In quadri stupendi Oggi questi luoghi Sono visitabili Per cui si può Si può andare Guidati da guide turistiche Preparate Con la presenza Anche di attori Che interpretano I personaggi Dell'epoca Si possono visitare Questi luoghi Messi in sicurezza Allestiti adeguatamente Si possono visitare Anche in maniera autonoma Perché poi ci sono Degli allestimenti Con delle spiegazioni Che aiutano La comprensione E quindi anche fare I giusti parallelismi Tra il paesaggio attuale E il paesaggio Dei dipinti E tutto questo Attraverso un calendario Anche attraverso un calendario Di visite guidate Dove si può Insomma Come si fa Per accedere A questo A questo Bel modo Di visitare Il territorio Allora Montefeltro Vedute Vedute Rinascimentali È il nostro Indirizzo Facebook Oppure Telefonando Al 333 5274 768 È la nostra Segreteria Oppure Iscrivendosi A info Chiocciola Montefeltro Vedute Rinascimentali Che cosa si vede Nelle vostre guide Domenica ad esempio C'è un'escursione Secondo me Meravigliosa Siamo nella zona Di Villa Grande Di Montecopiolo E a seguire Pennabilli Il tutto Ha una durata Di circa 2 ore e mezzo 3 ore Verso l'una Si completa Il tutto E si vedono Dei paesaggi In mozzafiato E in più Si conosce La Gioconda In carne ed ossa Con l'intervista Impossibile A Pacifica Brandani Perché La Gioconda È Pacifica Brandani Di Urbino Ormai è stato dimostrato Storicamente Nata e morta Urbino Amante di Giuliano Dei Medici Lei racconterà La sua storia E questo grande amore Per Giuliano Appunto Giuliano Dei Medici Bene In chiusura Di Insomma Di Tg Vi diamo La notizia Che Insomma Qualcuno di voi Già lo sa Lo ha visto Negli spot Che stanno passando In questi giorni Domani riparte Missione Salute Marche Nord Istruzioni per l'uso Quindi ogni giovedì sera L'appuntamento sarà Con Gli specialisti E con i reparti Della nostra azienda Ospedaliera Domani ci sarà Qui presente Pierangelo Simoni E di suoi collaboratori Che è il direttore Dell'unità operativa Di Ortopedia Spero che Marche Nord Possa In futuro Avere Uno sviluppo E un Miglioramento Qualitativo E quantitativo Della Della sua Attività Perché Peso Refano Insieme Con tutto Poi Il Comprensorio Rappresentano Quasi Un Sesto Mi pare Della popolazione regionale Delle Marche Quindi hanno diritto Ad avere Veramente Una Prestazione Sanitaria Per quello Che mi compete A carattere Ortopedico Che sia Al miglior Rivelo Possibile Bene Come è accaduto Anche Nella prima Edizione Ci sarà Una parte Nella quale Voi potrete intervenire In diretta Attraverso appunto Un numero Di telefono Che è lo 0721861433 Potete intervenire Appunto In diretta E interloquire Direttamente Con i medici Ospiti In studio Per rivolgergli Domande Oppure Perquisiti O qualsiasi Vostra Osservazione Riterrete Opportuno Fare Proprio A riguardo Del tema Trattato Nella puntata Bene Io mi fermo qui Grazie per essere stati In nostra compagnia A aver seguito La nostra informazione Occhè alla notizia Torna domani sera Puntualmente Alle 20 e 30 Grazie E buona serata A tutti voi Grazie 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 Grazie